Musica Musica Di, 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 yo, 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 nigabro, nigabro di The Long Dark Ma iniziamo questa serie, perché ne vedete le belle, poi andremo a caccia di Erobrine Ragazzi pronti? Cappellina alimenti 3, io questo video lo faccio per te Allora, io direi di iniziare con un simbolo, molto 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 ricercato nel Paganesimo Qualcosa che ci rappresenti, e che ci dia subito l'impronta di quello che andremo a fare Quindi, siamo in creative ragazzi, il gioco più bello del mondo Minecraft Andiamo qui, sui cubetti, cerchiamone uno del giusto colore Io cercherei qualcosa che attiri anche lo sguardo, attiri l'attenzione Quindi magari qualcosa di... E cazzo è fatta sta roba Qualcosa di... Oh io, niga, niga, netherrack Il netherrack rarissimo Lo mettiamo assolutamente qui No, l'abbiamo buttato Lo prendiamo, che finisce qui E iniziamo subito io La nostra costruzione L'ha fatta anche a Mario Ok, abbiamo dato un senso alla nostra struttura di partenza Qualcosa che sia una miniatura per la nostra nuova serie Yo, grandissimi, fucking niga Della nostra prima... primo episodio Della nostra prima creazione, appunto, di PaganCraft E direi a questo punto di fare qualcosa di più bello Qualcosa di più accanito Qualcosa di più acceso Iniziamo a scavare E ora, ovviamente, con questa struttura di partenza Stuttura alquanto semplicistica Ma assai evocativa Andiamo a riempire all'interno Cerchiamo i cubetti giusti E vai, grandissima bestia Il nostro... Eccolo qua Il nostro secchiello di lava Iniziamo a riempire tutto Sperando che non scavi 3, 2, 1 Bro, fratelli Per voi Andiamo Ed è qualcosa, ragazzi, di bellissimo È veramente un inizio stupendo Fatto col cuore Questa Che sia non solo il primo episodio Ma anche la miniatura Del primissimo video Perché, ragazzi, guardate È un fottuto spettacolo Ragazzi, Nigga Bro Solo per voi Inizia la serie di Minecraft Anzi, di PaganCraft Ragazzi, dal vostro Cappellino alle 23 è tutto Io spero che questo episodio vi piacerà Se ne volete vedere uno nuovo 50.000 pollici in su Ragazzi, tutto questo Solo per voi Io Allora Giocate mai a Rust Ci chiede Righini01 No Per gente come te Hai capito, Righini? Per gente come te Noi non giochiamo più a Rust Si è popolato di bambini Di merda Dovete andare a scuola Dovete andare a scuola Andate a scuola E non giocate a Rust Avete rotto Avete rotto un gioco A parte i coglioni Avete rotto un gioco Hai capito? Voi bambini Avete rovinato Code Avete rovinato Rovinato Minecraft Avete rovinato L'erba Avete Basta Basta bambini Sono tutti i giochi Ma come forse Cosa vuol dire forse